Dell Technologies risponde all'effetto farfalla applicando una strategia agile, flessibile, che permette di anticipare effetti indesiderati o effetti sorpresa, consentendo alle aziende di essere pronte a reagire a situazioni di mercato o a situazioni che l'ambiente in cui operano le mettono davanti. I vantaggi di business prevalentemente adottando questo tipo di strategie sono la resilienza, resilienza appunto nelle condizioni di mercato avendo un'infrastruttura pronta a reagire alle esigenze di business e anche per essere resilienti a eventuali problemi di sicurezza, di protezione del dato, dall'utente singolo col proprio PC al cloud. I vantaggi che noi possiamo offrire ai CEO italiani è aiutarli a prendere decisioni informate, grazie al nostro approccio a 360 gradi sul mercato, quindi copriamo tutti i tipi di vertical, tutti i tipi di industrie e siamo in grado di dare, anche grazie a dei workshop gratuiti che facciamo di mezza giornata, consulenza alle aziende, ai CEO, nella situazione esist to be, quindi dove voglio andare, dove mi trovo in ambito di generative AI, di cyber security, di multi cloud o di workforce transformation.